Sette frasi preferite del Dalai Lama, che in vacanza c'è il tempo di rifletterci. Primo, giudica il tuo successo in base a cosa hai dovuto rinunciare per ottenerlo. Secondo, amore e compassione sono necessità, non lussi superflui. Senza, l'umanità non sopravvive. Terzo, è inutile cercare la pace fuori prima di averla trovata dentro. Quarto, ricordati che a volte non ottenere quello che vuoi è un meraviglioso colpo di fortuna. Quinto, pace non vuol dire assenza di conflitti, le divergenze ci saranno sempre. Pace significa risolvere queste divergenze con mezzi pacifici, dialogo, educazione, conoscenza e modi umani. Sesso, il tuo obiettivo non deve essere diventare meglio di qualcun altro, ma meglio della versione precedente di te stesso, te stessa. Settimo, ogni giorno, quando ti svegli, ripeti, ho la fortuna di essere vivo e non la sprecherò. Userò tutte le mie energie per evolvere, per aprire il mio cuore agli altri, per i quali avrò pensieri gentili. Non penserò male né mi arrabbierò, farò quanto più bene posso fare. E questo è un minuto di saggezza tibetana.